La PD Cristina, oggi direzione cittadina del Partito Democratico, la presenza del segretario provinciale Giuseppe Gallè, che cosa è emerso alla fine? Intanto c'è un PD unito? Intanto c'è un partito, a differenza di altre situazioni, c'è un partito che si riunisce, che ragiona, che discute, anche oggi un'altra direzione partecipata in cui ancora una volta abbiamo ristabilito quella che è la linea politica del partito, che è una linea di grande coerenza rispetto al passato. Siamo all'opposizione rispetto a questa giunta perché riteniamo che oggettivamente abbia dei limiti, ma contemporaneamente ci prendiamo la responsabilità di essere un partito di governo a livello regionale e nazionale. E che cosa è emerso durante la riunione? È emerso che quella che era la seconda fase che ci eravamo dati insieme al gruppo, insieme al gruppo dirigente, al partito e a tutti i militanti la metteremo in gambo, cioè quello di ritornare in mezzo alla gente e per questo metteremo in gambo una grande iniziativa a metà ottobre per stare insieme alle nostre concittadine e ai nostri concittadini e mettere in gambo quella che secondo noi può essere l'alternativa possibile per questa città. Parliamo della festa dell'unità? Speriamo che sia la festa dell'unità, stiamo lavorando affinché possa arrivare alla conferma, mancano alcuni dettagli, ci incontreremo col segretario regionale del partito per definire meglio la situazione. Intanto la direzione provinciale ha già collocato la festa dell'unità nella città di Gela e questo dopo 11 anni mi sembra già un elemento straordinario che dimostra la centralità che ha questo gruppo dirigente rispetto al gruppo dirigente provinciale e regionale. E quali altri temi Anzo Cilignotto oggi avete affrontato? Diciamo che in Consiglio Comunale ci sono delle scadenze importanti che sono la relazione annuale del Sindaco, il bilancio di previsione e il piano triunale delle opere pubbliche. Il gruppo consigliare sta lavorando insieme al partito, abbiamo preparato degli emendamenti qualificanti che riguardano il decoro urbano e l'aiuto alle fasce più deboli. Apprendiamo dalla stamba che a quanto pare la Giunta ha preparato un maxi emendamento e quindi come se fa una mezza marcia indietro rispetto alla proposta di bilancio di previsione che ha presentato già in Consiglio Comunale. Vedremo, ci vedremo questo maxi emendamento, ma è chiaro che la linea del partito è una linea critica nei confronti di un bilancio di previsione che sottratta notevoli risorse alle fasce più deboli delle popolazioni. Non bastano le conferenze stampe della Giunta Messinese sull'aiuto alle fasce più deboli, ma utilizzando strumenti messi a servizio della popolazione, strumenti messi a disposizione da parte del Governo nazionale, del Governo Renzi. Dunque, dall'ultima riunione che voi avete avuto proprio nella sede del Partito Democratico c'è la conferma attuale che voi siete sempre all'opposizione. Ma su questo non c'è dubbio, chi perde le elezioni sta all'opposizione. Abbiamo delle scadenze importanti, il libro di consorzi, il referendum, dopodiché, come già detto in precedenza, il Partito Democratico si pone come un partito centrale nell'area di centrosinistra e che cercherà insieme agli alleati di creare un'alternativa credibile e competente al Governo messinese.